L'Aquila oggi è un enorme laboratorio in cui poter sperimentare nuove tecnologie e nuovi materiali. Si parla della città come il più grande cantiere d'Europa, naturale dunque immaginarla come un polo di eccellenza, riferimento per produttori di materiali, imprese edili e progettisti. Ecco perché proprio all'Aquila, negli spazi dell'ex agriformula Monticchio, si svolgerà dal 7 al 9 luglio 2011 la prima edizione del Salone della Ricostruzione, un evento fieristico promosso da Ancia Abruzzo e da Carsa SRL, in collaborazione con Bologna Fiere, Verona Fiere e con Green Building Council Italia. Questa iniziativa parte su due presupposti, da un lato offrire ai cittadini del cratere la possibilità di trovare in un unico luogo l'opportunità di avere il sistema dell'edilizia e quindi trovare i prodotti, trovare le imprese, trovare i progettisti che possono essere utili alla ricostruzione. L'altro elemento straordinariamente importante è quello che attraverso un salone dell'edilizia e della ricostruzione è possibile avviare una filiera di un'industria delle costruzioni sul territorio aquilano e quindi ridare uno stimolo all'industria locale legandola ad un progetto che durerà tanti anni, quello della ricostruzione, dove quindi se arrivano nuovi produttori a mettere aziende avranno anche direttamente il mercato a disposizione. Il Salone si propone di creare una vetrina specialistica sui temi del restauro, delle nuove tecnologie, della qualità delle costruzioni, della bioarchitettura. Professionisti e gente comune potranno conoscere le proposte più innovative nell'ambito della ricostruzione privata e pubblica nei 57 comuni del cratere e per il restauro dell'immenso patrimonio architettonico del capoluogo abruzzese. Sicuramente sarà un salone specifico, noi intendiamo fare un salone molto tecnico, però è chiaro che all'Atere ci saranno tante iniziative, stiamo parlando anche con le forze sociali, con i sindacati, e coinvolgeremo anche in questa iniziativa le altre forze datoriali. Sarebbe anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione dell'edilizia non solo all'Aquila ma anche in tutta l'Abruzzo. L'esposizione sarà aperta alle imprese idili e alla filiera del settore, interessando tutte le componenti produttive e anche le istituzioni pubbliche. L'Aquila ha un'attenzione nazionale ma non di tipo politico e strumentale, quella che stiamo pure vedendo che esiste. Esiste anche un'altra attenzione, cioè l'attenzione di vedere quello che si farà all'Aquila, quali saranno le tecniche, quali saranno i materiali usati. Sono certo che tra qualche anno potremmo dire che questa è stata una ricostruzione fatta a livello qualitativo. naturalmente perché tutto emerga in maniera palese, per cui ci possa essere anche un processo democratico di valutazione, di confronto anche con la cittadinanza, è necessario che i piani di ricostruzione vengano al più presto resi pubblici in maniera tale che ci si possa anche aprire un dibattito.